Rendere umano il rapporto con i familiari ed informare sulle cure prestate al proprio congiunto che è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Si chiama Rianimazione Aperta, la rivoluzione che apre le porte della terapia intensiva del San Donato di Arezzo, diretto dalla dottoressa Raffaella Pavani. La terapia intensiva sarà aperta ai familiari dei pazienti dalle 15 alle 23, una fascia oraria che prevede un'ulteriore suddivisione. Dalle 15 alle 17 è consentito l'ingresso massimo di due visitatori alla volta per degente senza possibilità di cambio, orario in cui il medico di guardia e l'infermiere referente forneranno notizie relative all'andamento clinico assistenziale. Dalle 17 alle 21 il passo poi viene chiuso ma resta la possibilità ad un visitatore di rimanere. Dalle 21 alle 23 è poi di nuovo previsto l'ingresso di massimo due visitatori alla volta per degente con possibilità di cambio. Ai visitatori se ne è inoltre chiesto di avere la massima attenzione per tutti i pazienti del reparto, ma anche di rispettare alcune norme igieniche di sicurezza e gestionali. Permettere la presenza di familiari e visitatori in terapia intensiva, commenta la dottoressa Raffaella Pavani, non è una concessione che facciamo al paziente ma il riconoscimento di un suo diritto.